Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questa Weissberg 400, una caravan per quattro persone in una famiglia ben contenuta e leggera. Cliccate sulla vostra destra in alto che si aprirà la scheda del nostro sito con tutte le caratteristiche, peso e dimensioni. Ora vi voglio far spiegare l'abitabilità di questa roulotte, poi iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina che sarete sempre aggiornati. Andiamo al suo interno. Qui sul davanti c'è il tavolo che all'occorrenza serve abbassando il tavolo diventa un letto, un grande letto matrimoniale con le tre finestre molto comode. Poi dei bei pensili anteriori, delle mensole a destra e sinistra e questa bella mensola molto funzionale. Poi andiamo sulla parte cucina, i tre fuochi, un bel lavello, un bel pensile, come vedi com'è bello profondo, poi il frigorifero con il suo congelatore. Qua le cassettiere, uno, due e un contenitore in fondo. Da quest'altra parte un grande armadio e la stufa. Questa cara va già al serbatoio d'acqua potabile e il riscaldamento, lo scaldacqua elettrico. I due letti con molto comodi che hanno sia l'oblò che le finestre davanti. Poi il separe qua che quindi separa la parte dei bambini con la parte, l'altra parte. Qua il bagno, quindi questa è la tenda per fare la doccia, quindi vedete mi muovo bene. Poi il lavandino, un bel pensile, i tre contenitori, l'oblò, per attaccare le crucce per avere eventualmente cose bagnate. qua l'altro contenitore sotto il lavandino e come vedete una bella posizione, comodità per quanto riguarda il water. Quindi una bella roulotte compatta per quattro persone, una famiglia di quattro persone, leggera, che vi potrà portare nei viaggi più belli per le vostre vacanze. Chiamateci, venitela a vedere. La nostra consulenza è una cosa importante per farvi scegliere bene e libertà di scelta, visto che ne abbiamo tante, è un nostro molto molto importante in aggiunta a ottimi prezzi e servizi. Ciao!